UFFICIALI PRONTI 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 Grazie a tutti. Abbiamo distrutto una corazzata nemica. Siluri a dritta. Siluri a dritta. Allarme incendio! Problema risolto, signore. Caccia torpediniere nemico colato a picco. Generatore di fumo avviato. La squadra nemica è in vantaggio. Caccia in volo. Come. Ha. Un momento. Vai! Rilasciata cortina fumogena. Corazzata nemica individuale. Do wszystkich jednostek! Skupić ogień na celu! Sprawda! 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 Grazie a tutti. 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 Siluri a bordo. Grazie a tutti. Siluri a bordo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.